che mia mamma ci ha subito regalato il libro dei nomi che ci ha confuso ancora di più le idee ciao a tutti amici Tano TV per voi allora eccomi ancora qua pronto per stare in vostra compagnia ricorda metti un like iscriviti al canale Tano TV attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono eccoci qua amici miei allora ci sono delle novità dei nostri Zengabo guarderemo la loro vita quello che fanno quello che mettono sul loro profilo Instagram e scopriremo quello che hanno fatto in questi giorni adesso vi faccio vedere un repilogo di quello che è successo sì però abbiamo una rosa di nomi eccoci qua